Bilancio più che positivo, quello tracciato da albergatori e ristoratori per le festività pasquali appena terminate in Valle Peligna, dopo tre anni orribili in termini di presenze sul nostro territorio. Alberghi pieni e ristoranti che segnano il tutto esaurito dopo anni con il segno meno nell'incaming ricettivo. Un dato in controtendenza, quello registrato a Sulmona, che stride con il meno 20% di vacanzieri registrato nel resto della regione e in tutta Italia. Sono molte le ragioni degli ottimi risultati sulmonesi, i riti pasquali suggestivi e radicati nella tradizione e nella religiosità, che continuano ad attrarre ogni anno turisti e pellegrini provenienti principalmente dal centro Italia, Campania e Lazio in particolare. La mattina di Pasqua erano circa 40.000 i turisti assiepati in Piazza Garibaldi per assistere al rito della Madonna che scappa in piazza. Tra le chiavi del successo sulmonese però rientrano anche le scelte fatte in merito alla qualità dell'offerta turistica. Una scelta oculata dei menu, tutti squisitamente made in Abruzzo, prezzi concorrenziali accessibili a tutte le tasche, aperture straordinarie per i beni artistici di particolare interesse storico-artistico. Con soddisfazione possiamo affermare che l'iniziativa ha avuto un grande successo. Il numero dei visitatori è stato notevole, circa un migliaio, è quanto dichiara il personale del Dipartimento dei Beni Storici Artistici di Sulmona, che ha curato l'apertura straordinaria dell'abbazia di Santo Spirito al Morrone, nelle giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo. I turisti sono giunti da tutta Italia, mostrando il loro apprezzamento per la bellezza del sito monumentale e per la professionalità del personale che li ha guidati nel particolare tour storico-religioso. Unica nota stonata, le tante saracinesche chiuse nella giornata di Pasqua, degli esercizi commerciali, specie in centro storico, scelta questa che stride non poco con le iniziative di rilancio turistico intraprese in Valle Peligna. Grazie. Grazie.